Amici di Webham TV, siamo a Milano Almudek, alla mossa di Piet Mondrian, che vi invitiamo a visitare fino al 27 marzo 2022. Questo è uno dei suoi mulini a vento, uno dei simboli della sua Olanda. Siamo agli inizi del Novecento, prima della svolta al neoplasticismo, Mondrian lancia la corrente del luminismo, la ricerca della luce e la sua influenza sulla natura. E questo è uno dei quadri, diciamo, che escono e superano la scuola del Laia, la pittura tradizionale olandese, per arrivare alle avanguardie del Novecento.